Adesso non andiamo in Sicilia con Sergio Sergi ma dall'altro capo della penisola, cioè andiamo a Milano e do la parola a Lia Quartapelle, Lia Quartapelle, deputata del Partito Democratico, giovane deputata del Partito Democratico, che Emanuele ha incontrato a Milano insieme ad altri giovani vari anni fa, prima che diventasse parlamentare, in un incontro in momenti organizzati da Gianni Cervetti dove lui è andato mosso da quella curiosità di capire che cosa si muoveva nel mondo giovanile e in particolare in quel mondo che si avvicinava alla politica. Questo era il suo rovello, la sua domanda. Ecco, ma su questo io mi fermo, do la parola a Lia Quartapelle. Grazie, grazie Giovanni. Quando Giovanni Matteoli mi ha chiesto di essere presente e di parlare di Emanuele Macaluso, io gli ho detto di no perché ero molto in soggezione con questo tipo di ricordo, nel senso che a me e credo a tanti come me, Emanuele ha sempre provocato una grande soggezione, una grande reverenza. Io ho conosciuto Emanuele almeno dieci anni fa, forse qualcosa di più, ero una giovane segretaria di sezione a Milano e Emanuele veniva per incontrare Cervetti e io ricordo che noi andavamo a prenderlo in albergo, all'albergo del partito, l'Auriga, vicino alla stazione centrale e lo portavamo alla Verdi, non so se Gianni si ricorda. Emanuele era, metteva in soggezione, non era lui che metteva in soggezione, era la storia della sua vita che metteva in soggezione. Mentre Gianni ha una storia di vita enorme, anche lui, ma più vicina, perché è una storia milanese, perché è una storia di studi all'estero, perché è una storia comunque confinata dentro delle cose conosciute, cosa si poteva dire da giovanissimi a Emanuele Macaluso, che era stato in segreteria, chiamato in segreteria nazionale da Togliatti, che era stato dirigente sindacale negli anni 40 in Sicilia durante le occupazioni di Latifondi, che era stato iscritto al partito comunista clandestino. Era molto difficile e poi la cosa buffa era che Emanuele, con il suo atteggiamento, ti metteva in soggezione, nel senso che, a differenza di altri, come ha detto anche Orlando, non è che nutrisse di racconti, voleva sapere che cosa ne pensavi tu. E questo ti metteva in grande soggezione. Io ricordo appunto delle chiacchierate in cui lui domandava, era curioso, voleva sapere, si interessava. E poi era, ricordo molto bene, forse Gianni se lo ricorda, un giorno in cui, lanciando il riformista, Emanuele venne a Milano durante i giorni del ballottaggio delle elezioni comunali del 2011, quando appunto stavamo finendo la campagna elettorale per Giuliano Pisapia. e venne per dare una mano a Pisapia e presentare il riformista. E io mi ricordo questo comizio nel teatro all'Elfo Puccini, in cui Macaluso spiegava che cos'era il nuovo riformista, e io mi chiedevo, ma perché un uomo di quasi 90 anni, ancora oggi si mette così tanto a disposizione, durante una campagna elettorale, in un luogo comunque lontano, diciamo, dalla sua quotidianità, come poteva essere Milano. E conoscendo poi Emanuele più avanti, c'era il giornalismo, c'era la politica e c'era la vita, e Emanuele era lì per queste tre ragioni. Un'altra ragione per la quale io ero in soggezione, oltre a questo suo essere, si direbbe in inglese, larger than life, più grande della vita, più grande della vita stessa, erano le critiche che Emanuele Macaluso ha sempre mosso nei confronti del Partito Democratico. Delle critiche che erano molto dure, molto dure, e molto difficili anche da contrastare per chi come me, invece, è nativo del Partito Democratico. E quelle critiche mi sono tornate in mente. Emanuele è morto in dei giorni molto particolari, non solo, appunto, a pochissimi giorni dal centenario della scessione di Livorno, ma è morto anche in dei giorni molto difficili per la nostra comunità politica, in cui noi abbiamo dovuto prendere, insomma, delle decisioni complesse sull'allargamento della maggioranza, il governo di unità nazionale, e in cui, dei giorni nei quali, le critiche che Emanuele aveva mosso al PD, dicendo che il PD non era un partito, ma un agglomerato politico elettorale a servizio di un leader, che la crisi della sinistra è una crisi radicata, perché era radicata nelle strutture più profonde dell'economia e della società, e che il PD questa crisi radicata non l'aveva analizzata, e per cui si trovava ogni volta a rincorrere gli eventi, piuttosto che a gestirli, analizzarli, a dirigerli. Ecco, il fatto che lui sia morto proprio in quei giorni mi ha fatto di nuovo sorgere il dubbio che quelle critiche vadano riviste, analizzate, di nuovo, riprese in considerazione. Come? Proprio i giorni della scomparsa di Emanuele è arrivato a casa il libro di Emanuele e di Petruccioli, io non l'ho ancora letto tutto, ma mi ha colpito molto una cosa che ha detto adesso Claudio Petruccioli, la questione del discutere. Io credo che se c'è una cosa, da tenere in considerazione di tutto quello che Emanuele ha fatto, ha detto, ha scritto, ha lasciato, è questa questione dell'attitudine al discutere. Nell'introduzione che io ho trovato molto toccante, Emanuele scrive, discutere non è semplicemente conversare, comunicare l'uno con l'altro. Certamente nella discussione c'è comunicazione, c'è ricerca, ma c'è anche altro. C'è, e lo rivela l'etimologia del verbo, dal latino di scuotere, anche lo scuotimento, il coinvolgimento completo di te e dell'altro. E di ambe due, nello scuotere l'oggetto sottoposto a esame, senza alcuna reverenza, proprio per l'importanza che gli si attribuisce. La discussione nasce quando ci si scuote, ci si mette in gioco. È il motivo per cui non coinvolge solo i due che l'alimentano, ma chiunque avverta la stessa scossa. Ecco, io credo che se noi vogliamo uscire da questa crisi molto profonda, che è una crisi della Repubblica, è una crisi della democrazia, è una crisi dei partiti, ed è quindi una crisi anche di un partito che si chiama Democratico, che è il mio, forse la cosa da riprendere sono da un lato le critiche di Emanuele, per fare meglio, perché insomma un po' la strada la stiamo perdendo, e un po' questa attitudine a discutere che io sento tra di noi che abbiamo un po' perso e che invece sarebbe molto utile perché questa attitudine a discutere è quella che ti permette l'unità. Grazie. Grazie.